ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi proveremo beans the coffee shop simulator è una preview e come tutte le preview io non l'ho mai giocato e non so di che cosa si tratta e cosa sia ma vedo che c'è un tasto cheat che non andremo anzi devono vedere cos'è ct se poi civile and the will break no non lo vogliamo option music che abbassiamo un po sfx e lo lasciamo e basta ok nuova storia certo ai note big in the game purtroppo in inglese e quindi non c'è il game delle varie sperimenti ok vabbè tutto nuovo stanze a basti sono arrivato a che oddio da il suono coloro è bruttino però va bene ok cos'è skip non lo so ma come mi muovo sto aspettando l'autobus no non ho capito ah ok una cazzini fa tutto da solo non sembrava una cazzini però va bene oh la la va bene va bene va bene andiamo a prendere il caffè stossisce come un animale questo qua va bene un po' respirare sta morenne che cosa ma che sta succedendo chi è questo l'uomo nero ora prende quello che è suo va bene ma fino adesso non ho capito nulla di quello che sta succedendo ma va bene molte settimane dopo in questa città che si chiama townsworth quello quello ok va bene ho ricevuto la posta scritta a mano addirittura perché dice non mandano le email dato che mandano delle lettere scritte a mano ok sono ricco perfetto ma ci sono i twitter ma che questa qua urla la mamma urla come una forse nata ok entriamo dentro perché non riesce così esercita eccitata di vedere il nuovo negozio di coffee shop eccetera eccetera ok è arrivata la limousine ok no ecco che sono il gangster no chi è questo albert di nose siamo arrivati signorina roselinia coffee button ok madonna questo urlo come da dannati ah santa mi sei in cavolo come dei forse nati eh rissa subito fuori dal coffee shop foffi button va bene ok ci vuole mettere alla prova va bene andiamo patetico vabbè se la vanta perché è in limousine capisci ehm se la vanta perché è in limousine capisci ehm se la vanta perché è in limousine capisci ehm bass ma no ma tutti urlano ti conti qui questo la funzia ok se ne va rimango io no ma poi parliamo a distanze allucinanti possiamo iniziare eh sì vorrei ok ah lui è velocissimo ah attenzione che sta succedendo benvenuto al tuo nuovo ristorante miss ah sì ah sono una donna ruby sì perché c'è troppa roba oh oddio è troppa roba tavolini cose e rubinetti e e vuole pure cose ok e che devo fare posso iniziare non posso fare niente ok appliance cassa registra compra registratore di gas e ci vuole dove lo posso mettere rotata con la r ok qua no lo voglio mettere dove l'ingresso qui anzi più bello qua ok poi tip jar ok vicino alla cassa qui sono quella per le mance la mettiamo qua perfetto poi ah beh lavandino ok lavandino che è successo che è successo insettante ah ok lo andiamo a mettere qua perfetto poi abbiamo la macchina da caffè ora in tutti i bar la macchina da caffè è messa dietro perché facciamo le cose un po' all'italiana quindi la mettiamo qua che non è proprio la macchina da caffè però eh sì è un po' vuoto in effetti per i suoi gusti ok dobbiamo mettere sedie tavoli in modo tale che le persone vengono attratte si possono sedere e passare una piacevole giornata ok shift key click it and move it or dove ti piace oppure rimuoverlo con il tasto destro ok quindi cos'è questo un tavolino allora questo facciamo il bancone e quindi iniziamo a fare un tavolino qua quindi se faccio shift ah ok perfetto poi delle sedie tipo è già arrivata notte un'altra sedia mi servirebbe però eh ok due sedie Optimus Prime ma solo un tavolino e due sedie adesso quando le mettevo vabbè ah devo aggiungere le piante stai calmo stai calmo ho capito ho capito stai calmo allora il ficus una pianta di ficus che lo andremo a mettere qua poi sì piano 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 aggiungo tutto aggiungo aggiungo tutto aggiungo tutto ok black coffee by dragging coffee into recipe area research menu food and drink nuova ricetta eh che vuol dire ah ricerco ah ma così ok ho ricercato indecision personale vabbè davanti no la puoi fare per questo tutorial ti ho detto tutto adesso clicca i punti interrogativi nel menu tab food and drink menu e la babana ok ok giustamente se tu fai quello che è la bevanda favorita dei clienti loro pagheranno di più naturalmente va bene ok 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 quindi salviamo save questo lo abbassiamo questo lo chiudiamo adesso cosa ha detto fare quello ok e c'ho questo ah ricerca 5 dollari ok e che cavolo sta succedendo questo questa è la pausa ok vabbè ma io non mi posso muovere no vabbè eccolo quel pericolente pericolente ho fatto caffè ma che ah ma tutto in automatico fa ma ok oppure c'è lo sciroppo ma costa tanto lo sciroppo quanto c'ho io 117 quindi cooler microwave tester ice machine composter frigorifero display case espresso machine eh signori eh siamo italiani noi eh che vuole questo ok ci abbiamo i tips vabbè eh 1.67 ma io non vedo i customer però cioè dove sono ci stanno arrivando i twitter non mi piacciono vabbè sto preparando il caffè così preparo anche questo vado qui ok bagno la pianta questo pensavo che mi potessi muovere e fare le cose invece non capisco però va bene non è un problema food and drink click clear mettiamo questo ricerca ottimo poi se faccio così faccio ricerca fallita faccio così bicchiere di acqua vabbè menu ecco cos'era ecco cos'era ce l'ho reload up ispezione ma che è non lo so va bene ok menu se lo can research recipe espresso machine e sync quindi vuole un sync e un espresso machine faccio la ricerca e fa il caffè anacquato nooo il caffè anacquato c'è l'americano immaginavo io quindi adesso abbiamo questo nel menu questo e questo beh il menu è ricco dai ok quindi possiamo andare a comprare una città di plastica possiamo andare a comprare qualcosa come veramente ma stiamo scherzando che è che è sta spazzatura ah la devo raccogliere ok fanno schifo questi customer cioè non ho capito non si può comprare un questo cos'è il blender lo voglio prendiamolo oh customer vieni vieni cosa fa? ah vuole il sciroppo attenzione ho capito ho capito ho capito una cosa che possiamo cliccare sulle persone e capire ciò che vogliono ma dove lo mettiamo il sciroppo? ma così? è brutto ci dove lo mettiamo qua qua prepariamo tutto ah c'è spazza però ma saranno sono incivili sta gente però ma questo chi è? ah posso assumere l'ho svitato poi abbiamo attenzione customer cosa vuoi? hai visto che se lo va a sedere? è felice è felice lui vuole questo e lo dobbiamo comprare compriamolo e vuole un microonde e vuole tutto e non ce n'ho più soldi ho 24 dollari datemi datemi i tips due tips con due tips posso comprarlo per il microonde posso comprare il microonde e dove lo vado a mettere? qua ecco è brutto eh vabbè 5 dollari buoni 5 dollari ottimo eh eh soldi grazie ah il tips al tavolo figo vuole questo coso quindi facciamo così è un po' che casino un po' eh però eh grazie altri solda ottimo night lounge vediamo se questa vi entra entra no vuole la giarretta anche lui questo che vuole? ah questo vuole la vetrina ma non ti posso comprare io ui ui aspetta vediamo le ricerche espresso e syrup discoso allora syrup discoso ed espresso machine ricerca ottimo poi abbiamo coffee pot syrup ed non ce l'ho espresso ed air cooler air cooler e l'espresso eh non c'ho più 5 dollari mi servono dei dolla 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 gimme doll 5 dolla no peccato che non mi posso muovere come faccio a aumentare no eh progresso riserco un cappuccino mille ok rush hour 9.5 ottimo però non c'è il tipo ok salviamo intanto grazie tu tu cosa vuoi vieni qui vieni da me vieni da me vieni da me vieni da me entra 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 mmm non c'è pasta la giornata no eh no che ore sono? è 4 del mattino tutto il giorno che sono qua non vengono non vengono maledetti non vengono vuole il frigo questa che ci devi fare col frigo si o latte che cos'era quel piro piro vabbè non so se devo cliccare ste cose penso che sia solamente per divertimento altro chuckle questa entra non entra più nessuno maledetti sto andando in bancarotta fraudolenta ha in gonna cosa? ha in gonna cosa? qua 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 no no vieni da me maledetto lui è entrato è entrato vieni vieni dammi solda 5 dolla 5 dolla posso cercare posso fare ricerca questo più questo ricerca oiii cappuccino all'hoked ma è cappuccino e cappuccino eh se entrano tutti la mattina a fare il cappuccino per forza cappuccino e cappuccino coffee pot e dare il cooler non c'è la la coffee pot se non sbaglio c'è la coffee pot coffee pot e dare il cooler c'è la fitenzia però eh cosa vuole questo? vai beans see you do do run ok primitab progress completato cappuccino fatto mi serve io pensavo che dovevo farli io le cose però invece no vabbè no posso ancora ricercare attenzione attenzione mettiamo un'altra cosa nel menu tipo coffee pot e dare il cooler coffee pot e questo coffee col latte il milkshake ottimo quanto c'ho? 5 dollari ah ha lasciato anche un po' di mancia allora tutti no no questo non me lo posso permettere questo cos'è? la valigia ma che è? fermati ma che è sta roba? gtf ma che è? ho premuto gtf cosa vuol dire gtf? o mai 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 o ha? vabbè la gente è pazza che è sta roba? l'ho congelato ma che vuol dire? vuole il cappuccino Stava pensando Che ci posso cliccare Ma perché fate schifo Venite da me Ah eccolo qua Ah il composter Buono buono E il frigorifero costa troppo Display di case 25 Pura pura Esce troppo 25 Io c'ho 13 doll Qua è un po' A meno che devo mettere 20 Ah la band che suona Per attirare le persone E Employee costa troppo Perché poi io questo qua lo devo mandare Speed service plus 1 Ah non costano tanto La mamma Ah posso assumere Ma veramente Questo chi è Giacomo Chi sarebbe E' una vecchia fiamma Wow Questo vuole tanto Ottimo Questo è preso il cappuccino No Coffee milk Vuole anche il tuna Sada cuba Basta Eh Tu Vuole fare l'americano Allora Quanto c'ho 19 Puliamo Questo cosa va Devo comprare quella cosa lì va Voglio tutta la vetrinetta 25 Siamo a 20 e 48 Io credo che ce la faccio Ci spero Lui va dall'altra parte I tweet dicono che Boh Tanta roba Tu vieni qua Maledetto Questo vuole il composter Eh ma io posso comprare tutti i composter Beh decorazione cosa abbiamo Il tappeto Ok Questa roba Una lampada Quella per le mosche Fake wine rack Quello finto Azucca LCD Ah ci dà un plus customer Questo qua costa 100 AP al 100 Sarebbe male E C'abbiamo solo una pianta Che ci dà Poca roba Venite qua da me Oversight coffee With logo 8 dolla Tu vieni da me No Sì è entrata È entrata Dai che forse Sarebbe a 25 Grande No Non c'è bisogno Mi interessano Per adesso I customer 25 25 Volevano Scusate Il frigo Il frigo Volevano il frigo Ah no la vetrinetta La vetrinetta La vetrinetta Qua Eh non c'ha C'ha ragione Non c'ha il tavolo 350 What? Ci manca Un tavolo Eh dove erano I forniture Qua C'ha ragione C'ha Poracci Senza tavolo Come fai? Ma c'ha 87 87 87 di mancia Ci ha lasciato Ma Ma che figata C'è arrivato Mr. Brack Ci ha lasciato 87 di mancia Signore Ma ho visto anche Un 350 Ma non l'ho capito C'è abbiamo guadagnato 350 Ma non l'ho capito Però Dato che abbiamo 87 Possiamo comprare Questa roba Che andiamo a mettere qua Esatto Poi il composter Che Non lo puoi mettere qua Ma lo possiamo mettere Qui E poi Attenzione Attenzione Possiamo andare a fare Una ricerca Evento 200 customer tips Che bocca Eh non lo posso prendere Quanta roba Allora possiamo fare Display case Blender E coffee machine Ma il display case Non ce l'ho io No Display case Ce l'ho Poi avevamo detto Il blender E coffee machine Coffee pot Era questo Era questo No espresso machine Espresso machine Research E rara recipe Baga il cino Che roba è Va bene Poi possiamo fare Display case Ricerca Donuts Grande grande Poi facciamo Display case E dire cooler Display case E questo Ricerca Ok E poi abbiamo E il composter Display case E il composter Display case E il composter Display case E il composter Fallito Ah ecco Ah ecco Brava mangiate 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 Allora Display case E il microwave Va bene Quindi cominciamo a fare Anche del cibo Ma il microwave Ce l'ho Sì ce l'ho Grande Vai Ho i muffin Che servono i muffin Poi abbiamo Ehm Pure over brewer E composter Quindi questo E facciamo la birra Esatto Erba al t Puliamo Che è successo Fave Fave Vabbè Detto fave Poi facciamo Pure over Espresso machine Espresso machine Ricerca Coffee Perfetto Ci abbiamo un sacco E microwave Allora Pure over E microwave Ottimo Green tea E poi facciamo Pure over Dail cooler Quindi Questo Sì Questo Ottimo Quanti abbiamo 32 I soldi E poi facciamo Solamente quello Perfetto Il tè nero C'è il tè nero? Sì Mi sembra il tè nero Coffee pot Syrup E il cooler Quindi coffee pot Che non so dov'è Ah coffee pot Poi Non mi ricordo più Syrup Syrup E questo qua Raffreddamento Cappuccino Un'altra volta Ma ce l'avevo già il cappuccino Cappuccino Ah Cappaccino Cosa è Cappaccino Espresso machine Composter Cosa c'è il Composter con l'espresso machine Non lo so Però va bene Non oso immaginare Cosa uscirà fuori Eccolo qua Cos'è? Espresso What? Abbiamo un menu Completo Signori Abbiamo 21 dollar E possiamo fare Vediamo Vediamo quanto c'è da lui Ok 5 dollar Si va a sedere Stavo pensando Di mettere un tappeto Che brutto Oppure questo Tipo qua Così attiriamo più clienti E siamo A 6 dollar Grazie della mancia La sporcizia però Fate schifo Lasciate le cartacce per terra Ancora Poca roba Poca roba 2 dollari Ma che prego Un bicchier d'acqua 2 dollari Mi faccio schifo 57 centesimi Un altro customer Grazie Signore Cos'è che voleva lei? Cos'è che le piace? Scone Che cos'è lo scone? Non lo so cos'è lo scone Però è contento Quindi ci lascerà la mancia Anche perché in America Lasciano molte mance In Italia Non siamo tanti Adetti alle mance Ma in America Ok Non c'è un altro clienti 22 Io direi Se siete d'accordo Che Stava lasciato Ah ci ha lasciato la mancia Di Oh doppio cliente adesso Vai Vuole il microondo Vai Ottimo Se è andato a 32 Cosa potremmo mettere? C'è la libreria Aspetta Tu vuole questo coso Però io prima direi Di mettere Questo è bello però Tappi il 100 Se arriviamo a 100 Lo metto Lo schermo Lo schermo sarebbe buono Mettere lo schermo 46 Perché questo Lo potremmo spostare Tipo Vabbè No Vabbè anche qua Lo schermo Lo mettiamo a centro Fave Cioè Gli vuole questo Ma che è? Che cosa sarebbe? Ah Il frigge La friggetrice Spazza 21 Oh e 100 100 signori 100 Compriamo Il televisore gigante Al plasma Così i clienti Verranno Afflotti Affiotte Tanti Tanti Io E adesso Vedi vedi Cominciano ad entrare tutti Che c'è Il televisore Attira Il televisore attira E assumiamo Alla mamma Non ti preoccupare Stai arrivando Mamma che ti aiuta Non ti preoccupare Siamo in due Siamo in due Buono Ci vuole altri tavoli Però Altri tavoli Grazie La mancia Puliamo Ok Il televisore È stata una bella scelta Perché siamo a 137 Signori Quindi Compriamo Quello è impazzito Ma perché è impazzito Ma che vuole Ci vuole un altro tavolo È impazzito Via Tavolo nuovo Via Ottimo E se è impazzito Che non ce la fa più Vabbè Aveva fatto due clienti Ed è impazzito subito Vabbè 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 Non so perché Ora adesso era Ui 200 Addirittura Io prenderei Un altro tavolo Questo è bello però AP il zero Il tavolo Niente Ok Questo E poi prendiamo Due sedie Con la R Le posizioniamo qua Qua Quello è impazzito E basta Dopo un po' Ok Adesso Andiamo a comprare Il frigorifero Ottimo Quindi Food and drink Nel menu Abbiamo Non lo posso fare Non ce l'ho Il rotary toaster Fridge Composter Dial Brander Allora Fridge Composter Dairy Blender Sì Aspetta che devo andare A prendere un po' Di soldi E spazzatura Cheap 27 Siamo ricchi Signori Siamo ricchi Poi Food and drink Fridge Blender Spesso Quindi Fridge Blender E l'espresso Ottimo Direi che Possiamo assumere Un'altra persona Lo zio Ron Questo Siamo più veloci Però devo pulire io Vabbè Pulemo noi Puliremo Ok Fridge Composter Allora Frigorifero E Composter Oh Il sandwich Solamente Frigorifero Perché devo Premere Tre volte Questo è lo Sgabello Ma possiamo Mettere Sgabelli Qua No Non lo fa Mettere Lo sgabello Ok Che vuole Questo Che c'ha Ma che cosa Vogliono Sti genti Ok Fatemi fare Le ricerche Per favore Va come Dei pazzi Adesso Frigorifero Frigorifero Research E l'avevo fatto Già Vabbè Va È imbazzito Display Rotary Toaster Non ce l'ha Rotary Toaster Friggio E sink Allora Friggio È questo Ottimo La sede Zuzzoni Però Ok Poi Signori Siamo Nel bel mezzo Di tutto Ciò che può Essere Quello Che è Impazzimento Totale Friggio Blender Ah il rotary Toaster Ce l'ho Io Ottimo Adesso lo Facciamo Adesso lo Facciamo Allora Display Rotary Coffee Pot Allora Coffee Pot Coffee Pot Display Rotary E fridge Sicuro No No Display Rotary Coffee Pot E blender Display Rotary Coffee Pot E blender De Espresso Tu Stai capendo Le basi E quindi È iniziato A fare Soldi Perfetto Ok Infatti Andiamo qua Abbiamo fatto Mille Dollar Perfetto Ma sembra Ah no Ok Poi Display Rotary Ok Rotary Display E questo Ottimo Poi Nel menu Avremo Display E Rotary Quindi Display E Rotary E basta Ottimo E poi Abbiamo L'ultimo Fridge Espresso Machine Ci sarebbe Il caffè Ghiacciato Caffè Freddo Espresso Machine Andiamo No Il latte Ma come Il latte Va bene Adesso Ce l'abbiamo Tutti Ok Confi Ok Voglio Questa Ok E poi Avevo visto Che c'era Il divano Tipo Questo Che lo Posso mettere Solo qua Plastic Plastic Che più bello Però Vado Che casino Va bene Vabbè Comunque Stiamo Facendo Un sacco Dei Sordi Così Allora Cosa Possiamo Comprare La macchina La macchina del ghiaccio Ci è rimasta Qua Quindi In ricerca Adesso Avremo Frigo Macchina di ghiaccio Blender Frigo Macchina di ghiaccio A blender Cosa fai E Frullato Ah Frutti smoothie Ok E poi Abbiamo Coffee pot Ice machine Coffee pot Ice machine Caffè scegherato No Ice coffee pot Sì Caffè freddo Non abbiamo più Perfetto Direi che Serve 150 Custom Host Un event Un evento Un evento Aspetta Aspetta Voglio la band Qui In mezzo alla sala Ma che Sono Benissimo Ottimo E abbiamo Quello Ed è l'ultimo Ottimo C'è tanta spazzatura Però lascia Spazzatura ovunque Lasciate 1216 Siamo ricchi Un casino Mostroso Però Gli effetti Sono allucinanti Ok Spazzatura Siamo in tre Ormai siamo Gettonati Signore Ormai arrivano tutti Va 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 Ci abbiamo pure Quello Quello là è quello Che ci dà i soldoni Vieni Quello si è andato Si è incavato Così Vabbè Aspetta Prendo anche lui Non è un problema Ci vuole un altro divano Questo Questo Fa Puliamo i tavoli Puliamo la spazza I soldi E questi che vogliono Niente Quello è impazzito Poi faccio tutto io Cioè Loro fanno solamente Servono solamente alle persone Basta Cioè Ottimo 150 customer Quanto sono di customer 134 135 Vorrei arrivare a quella ciment E poi chiudere il gameplay A quella ciment Cioè 150 customer Attenti siamo Ci siamo qua 136 Ci siamo quasi Proviamo sta Robaccia Poetry slam Ma questi rimarranno lì a vita A suonare? Vabbè Vabbè Decorazione Questa qua Mettiamo il tappeto Ma il tappeto è brutto Ma non è un tappeto È una cosa che attacca una parete Poi Te lo fa vedere in un modo E poi in un altro Non ho capito Qua Vabbè Poi c'è Stack of crate Poi c'è Spazzatura A quanto siamo arrivati? 143 Ce l'abbiamo quasi fatta 25 dollari Di Roba Mettiamoci una sedia Qua 13 dollari Ah è felice 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 Uh Achievement 150 Custom e serviti Vedi? Ho completato il livello Ce l'abbiamo fatta Signori Quindi è a livelli Buono Ottimo Perché pensavo Perché pensavo Che devo andare così All'infinito E questo cos'è? Il consiglio Segreto Hanno tutti una bevanda Stanno comportando tutti contro di noi Vedi? Che noi siamo Andiamo alla grande Noi Ma è più bello questo C'è pure qua Sporzia Ma che è? Eh ma Che cavolo Ma che si Che si Che che Ma hanno spuzzato tutto qua Ma perché? Esatto C'è hanno buttato tutto E hanno insultato E poi si sono andati via Ma che Che cavolo Perché? Boh Non si sa Vabbè Ah il complotto Ah sì sì Ci chiama l'ispettore Ci dice che è l'ispettore Ci vuole fare chiudere Eh sì Il complotto Ci vogliono fare fallire Maledetti Vabbè Ma noi Non falliremo E infatti Gli dice Passerò dopo Per Ok Perfetto Tanto salviamo Eh Io direi di chiudere qui Il nostro gameplay È durato un pochettino Di più Del solito Ah Anche un po' troppo Però mi piaceva Far vedere Almeno il primo livello Bene Naturalmente Non lascerò nessun commento Nessuna review Perché è una preview E quindi lascio a voi Decidere se il gioco Vi piace oppure no Qui sotto vi lascerò In descrizione Il link di steam Per supportare il canale Come sempre Iscrivete Lasciate un like E un commento Sono sempre ben accetti Alla prossima Bye bye